Buoni, buoni che salviamo, buoni, buoni che salviamo, buoni, Capuccio! Buoni, 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 bu Demeteor che scandisce l'andatura, a secondo posto in corda rimane sempre Peng in giubba marrone, a Perfect Gateway in fucsia verde, poi in turchese Fanol Bauscia, curva a largo di tutti Celticus, il compagno Drive to Hell invece sceglie la corsia più breve. La giubba chiara di Linarda si avvicina anche Blindman con la giubba arancia e le maniche verde a chiudere il gruppo Dream of Desert, Demeteor in fuga, all'interno Peng a Perfect Gateway insieme a Drive to Hell, Blindman che si avvicina, Celticus all'argo di tutti e poi Refuse to Bobbind, Peng in vantaggio lungo lo steccato e allunga, in quella fascia c'è anche Linarda che sta recuperando. All'esterno Drive to Hell, a Perfect Gateway, Blindman e Celticus, Peng in fuga dal Drive to Hell che lo va a pungolare, Linarda tra i due, gli chiude lo spazio Refuse to Bobbind, a Perfect Gateway e Blindman sono in sé a lottarsi dai 150 finali, con Drive to Hell in vantaggio su all'interno Refuse to Bobbind, all'argo Blindman, arrivo serrato a tre cavalli, Refuse to Bobbind e Drive to Hell in lotta fin sul palo. Davanti a Braindman, che va in arrivo dei passati, tra Refuse to Bobbind e Drive to Hell in un serratissimo testa a testa, rivediamo sul massi schermo, tra Refuse to Bobbind che è filtrato per via interna e all'argo Drive to Hell, ricordiamo che non è in linea sul palo della telecamera, quindi il verdetto va tutto verificato. Ho ancora un freno.